ciao bambini come state io sto bene grazie oggi con l'aiuto dei pupazzi impareremo i nomi dei vestiti siete pronti via camicia sciarpa ciao io sono l'orsetto neve indosso una sciarpa e una camicia la sciarpa e grigia la camicia e bianca e rosa ciao amici maglietta ciao io sono l'orso pietro e indosso una maglietta verde e arancione ciao amici vestito ciao io sono la coniglietta lisa indosso un vestito lungo bianco e azzurro mi piacciono tanto le carote ciao amici cappello ciao io sono la cagnolina chiara indosso un cappello con i fiori ehi vieni qui ciao io sono il drago pino indosso un cappello a punta con le stelle ciao amici amici gonna ciao sono la bambola anna bella e indosso una gonna a pua azzurra e bianca ciao amici scarpe ciao ciao io sono maria e indosso un vestito blu ho anche le scarpe blu e anche i miei capelli sono blu ciao amici guardate bambini i nostri amici hanno una valigia cosa c'è dentro proviamo ad aprire guardate un body questo è un body azzurro per fare ginnastica adesso una maglietta una maglietta bianca e azzurra che bella c'è ancora qualcosa nella valigia proviamo a vedere guarda una bellissima gonnellina questa è una gonnellina la gonnellina è a fiori ti piace la gonnellina siiii ciao bambini vi sono piaciuti i miei amici pupazzi bene avete imparato tante parole sui vestiti l'abbigliamento ora vi salutiamo perché fa freddo ci vediamo presto mi raccomando ricordatevi tutte queste nuove parole ciao 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 ciao